Ciao a tutti ragazzi sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale Oggi vi voglio presentare Sticky World, un gioco che preciso subito, la versione che vedete è una versione demo e un prototipo Quindi è una versione sperimentale, non ancora ovviamente lanciata sul mercato A cura di Tambu SRL, che io ringrazio veramente di cuore per averci offerto una copia per la recensione Tanto comunque Paolo Di Caffine, in descrizione trovate tutti quanti i link anche di Tambu che è all'editore Ed è un editore italiano che magari l'avesse conosciuto 3-4 anni fa, vi dico la verità Quando vi ricordate lavoravo al gioco da tavola di venerdì 13 Perché è un editore indipendente che valuta vari progetti Soprattutto, vabbè, magari progetti già abbastanza comprovati, che hanno vinto dei premi o dei concorsi e cose varie Ma comunque potete, chiunque può, proporvi un progetto E se loro vedono che questo progetto è interessante, magari ti aiuteranno nello sviluppo E perché no, anche come in questo caso, a preparare un prototipo E magari, se ne avrete bisogno, vi accompagneranno anche in tutta la fase Kickstarter Comunque, senza divagare troppo, voglio ringraziare anche di cuore Marco Arbau e Alessio Barilotti Che sono i due creatori del gioco Nella fattispecie Marco Arbau, uno dei due, appunto, creatori del gioco Mi contattò diversi mesi fa nella mia pagina di Facebook E tramite social ci siamo messi un pochino a parlare E mi propose questo suo gioco perché mi disse Visto che io ho un canale che tratta di boardgame e cose del genere Volevo proporti il mio gioco Sticky World Prova, ci fa una recensione, magari positiva o negativa Se ti piace o meno Comunque sarei molto interessato a sapere cosa ne pensi Mentre l'altro invece E quindi c'è stato tutto quanto uno scambio di mail, messaggi e quant'altro E ti devo dire che la valutazione Vabbè, Tricolulla può la vedere alla fine E l'altro invece, Alessio Barilotti È il ragazzo che ha fatto le miniature Miniature che anche quelle che vedete qui Che ora sono imbustate ma tanto ve le facciamo vedere durante l'unboxing A parte essere belline da paura Le ha fatte scultore lui Perché lui è scultore la fatta e queste tre che vedete tutte quante a mano Però anche queste che vedete sono prototipi Quindi sicuramente nella versione finale che ci sarà del gioco potrebbero cambiare Preciso subito che Poi vi faccio vedere un pochino come funziona Sticky World è un gioco di combattimenti Vecchio stile, anche un sandbox Perché il gioco vi invita a crearvi le vostre regole Perché no? Anche le vostre mappe, le vostre partite o le vostre modalità Perché il gioco di base ha tre tipi di modalità che sono Cattura la bandiera Quindi come vediamo in giochi tipo Doom o altri giochi storici Trius Sam e giochi del genere famosi anni 80-90 Poi modalità Deathmatch e modalità Deathmatch a squadre Il gioco è da due a infiniti giocatori Potete, almeno in due di base ci vogliono Non c'è una regola per l'intelligenza artificiale Anche perché questo è un gioco puramente PvP Quindi una squadra contro l'altra Però ci potete giocare anche ipoteticamente con 10 persone E il gioco, essendo una sandbox, vi invita a E forse la parte più bellina A inventarvi le vostre mappe E condividerle sul loro social Perché no? Anche modalità di gioco Però comunque il manuale, come vedete, ci dà qualcosa Di partenza di base Questo che vedete è un prototipo, come detto È una demo, non è ancora sul mercato Però nel 2020 dovrebbe partire il Kickstarter La versione che vi mostrerò oggi in questa scatola Che anche la grafica che vedete potrebbe Io penso sarà questa Però potrebbero cambiare diverse cose Da qui al Kickstarter Quanto è fatta veramente da paura Vi ricordo che quella che vedrete oggi Sarebbe la versione base del gioco Quindi con gli sticky I combattenti sticky fatti in cartoncino con gli standy Mentre invece nella versione finale Che sarà la versione deluxe del Kickstarter Ci saranno anche la possibilità di averli tutti quanti in 3D E più vari stretch goal Che potrebbero essere altri sticky e altre cose Comunque, unboxing Questa che vedete appunto come detto Sarà la versione, è la versione demo Di quella che poi sarà la versione standard del gioco Intanto guardate la confezione Insomma abbastanza grande rispetto alla mano Ed è veramente molto bellina Come tipi di disegni Tra l'altro mi sono anche complimentato con loro Perché lo stile mi guarda da morire E poi queste facce così nere, no? Senza lineamenti, senza occhi, naso, né nulla Però con questa bocca larga che sorride Mi ricordano un po' lo stregatto di Alice Nei Paesi delle Meraviglie Quindi è comunque bellino Bella colorata Mi piace anche il disegno La colorazione e tutto quanto Ed è un gioco, ragazzi, veloce E veramente, veramente divertente Poi vabbè, le conclusioni ve le do alla fine Apriamo Ah, ragazzi C'è già un QR code Qui da scansionare Per vedere la videoguida Quindi senza nemmeno leggere il manuale Per vedere un tutorial su come funziona Regolamento Facile Veloce Scritto bene Forse un po' piccolino, eh E io che vado verso 40 anni O mincio a averci qualche problema Leggi Forse mi ci vorranno l'occhiale per davvero Scritte così piccoline Però vabbè Vi spiega tutto Passo dopo passo E in pochissime pagine Vi da tutte le regole del gioco E come vi ho detto Quaggiù in fondo Vi da delle mappe di base Il gioco vi da 6 mappe In varie modalità di gioco Con un setup di base e tutto quanto Però è il gioco stesso Che vi dice Non le seguite nemmeno Createne di vostre Tanto vi mettete al tavolino I due giocatori E scegliete voi Come mettere gli elementi scenografici Il numero dei nemici E quant'altro Gli standi Degli sticky Che poi Tanto ora ve li faccio vedere Nella versione deluxe Che uscirà poi su kickstarter Saranno in 3D Come questi Comunque vedete Che questo qui Col fucile da sniper Praticamente sarebbe Questo qua Questo qui Sarebbe questo E questo Che dovrebbe essere Il paladino Qualcosa del genere Comunque combattente Da corpo a corpo Lo sticky da corpo a corpo È questo E più ci sono I vari standi Per metterli su Questi invece che vedete così Neri sono invece I minion Minion che servono Per essere messi Sul campo di battaglia Li potete sconfiggere Per fare dei punti E per guadagnare monete Da spendere Tabellone di gioco Che ovviamente È diviso Non è un pezzo unico L'hanno diviso Anche perché è componibile Quindi lo potete Quindi lo potete montare Come vi pare Per fare le vostre mappe Tanto vedete È delimitato dal contorno Quindi non vi potete Sbagliare nel setup iniziale Carte equipaggiamento Che possono essere Acquistate in gioco Spendendo monetine Un bel pacchettino Di bustine Dove conservare token Magari personaggi Perché possono anche In cartoncino Carte e quant'altro Vari token Con i cuoricini Che sono per segnare Ovviamente i punti ferita Le monetine Che sono i soldi Che potete guadagnare In gioco per comprare Equipaggiamenti vari E poi ci sono Arti simbolini Tipo simbolini Di rallentamento Nel caso veniate rallentati Minion Quelli normali Da combattere Altri tipi di minion Che dovrebbero essere Minion zombie O cose del genere Ed elementi scenografici Che anche questi Nella versione finale Deluxe Dovrebbero essere in 3D Però ripeto ragazzi Non c'è ancora il kickstarter Quindi tutto quello che vi dico Potrebbe essere soggetto A cambiamento Comunque C'è spugli Stagni O comunque Paghetti E rocce Dove dietro a nascondersi Insomma un po' di roba c'è E per finire Le schede Dei personaggi Quindi Dei vari sticky Che tanto poi ora vi faccio Vedere nel dettaglio Lui è lo sniper stick Che è uno sticky Da combattimento Prettamente a distanza E quindi C'ha tutte quante Delle regole particolari Per colpire a distanza Ed ha anche un'abilità speciale Decisamente forte Che fa più danni Rispetto agli altri Questo è veramente Molto interessante E ripeto Tutte queste miniature Sono dei prototipi Me l'hanno mandate Per farmi vedere Un po' come sarà Il prodotto deluxe Che poi uscirà Più avanti su kickstarter Comunque anche queste Sono prototipi Potrebbero cambiare Questo invece è il pala stick Ed è un paladino E un combattente Da corpo a corpo Perché anche qui Nel gioco cambiano Insomma le regole A seconda se Lo sticky È da corpo a corpo Da combattimento O quant'altro E l'ultimo Ma che personalmente Dei tre che avete visto finora È quello che mi piace di più Come stile Come è stato fatto È jumpstick Quindi questa è Una terza pedina Che ci hanno mandato Immaginatevi quando Si pensa che ci saranno Decine e decine E decine di sticky Tutti quanti fatti in 3D Nella versione deluxe Guardate là che spettacolo Ti immagini Nel campo di battaglia A vederli così Ti rubo tutto Allora ragazzi Questo che vedete È il campo di battaglia Devo dire che come gioco Non ha tantissimi token Però prende abbastanza spazio Sul tavolo Quindi ci vuole Un bel tavolino Ecco A noi quello dell'IKEA Che abbiamo preso Ce lo riempie tutto completamente Però vedete Il campo di battaglia Diviso in varie sezioni Che dovete andare a comporre Tanto guardate sempre Il bordino E soprattutto Noi stiamo giocando La prima missione Che c'è Nel manualetto Quindi è un team deathmatch A squadre Che ora vi facciamo vedere Un pochino come funziona Comunque qui C'è la squadra blu Da questa parte Che sono questi due personaggi Che sono Pala stick Sniper stick Le vedete qui Nell'istendi E sotto invece Ci sono Hammer stick E shield stick Dall'altra parte Invece la squadra rossa Sono Jump stick Heel stick E qua su in cima Ci sono Time stick Con il suo stand E arrow stick Quello che vi ho detto prima Che è uno di quelli Che attaccano a distanza E poi Tutto il campo di battaglia Comprensivo di minion Che poi vi dico come funzionano E un minion speciale Quindi minion normali E minion speciali Mentre invece Queste tesserine Che vedete Che si possono muovere Sono nella fattispecie Un cespuglio Che serve unicamente Come copertura Un vostro sticky Ci può andare dentro E quando sarà lì dentro Potrà bersagliare Soltanto a distanza Uno E potrebbe essere Bersagliato solo Da chi li ha a distanza Uno Quindi è una copertura Ma anche nel momento buono Un punto per attaccare Quelli nelle vicinanze Uno stagno Che non fa niente Praticamente lo stagno Lo dovete aggirare Perché non ci potete passare Attraverso gli sticky Non sanno notare Quindi li dovete fare Gire e passargli oltre E poi ci sono le rocce Che invece Non le potete Non ci potete passare Attraverso Come lo stagno E in più Bloccano la visuale Quindi se avete uno sticky Qui e c'è uno sticky Rivale di qua Non lo potete attaccare Perché c'è la roccia Che blocca la visuale Le regole sono comunque Semplicissime Ve le vado a descrivere Velocemente All'inizio del gioco Voi La cosa bellina Perché questo gioco Un sandbox Vi dovete mettere a tavolino Con i vostri amici E decidere quanti sticky Mettere in campo Quindi ne potreste mettere 4 1, 1, 1 e 1 Per squadra Quindi 2 da una parte E 2 da un'altra Per un team deathmatch Mentre invece Ne potete mettere anche 8, 10 A seconda di quanti ne avrete E ce ne saranno Dentro la scatola Questa è la parte sandbox Vi dovete mettere d'accordo voi Come anche la mappa Se questa qui non vi va bene E la volete spostare Più in qua Mettetevi d'accordo Fra giocatori Insomma la spostate Questo è un gioco Veramente open source Al massimo livello E c'è anche la modalità Cattura la bandiera Che dovete andare Da una parte del tavolo del nemico Prendere la bandiera Dovete decidere Chi muoverà per primo O se no tirate un dado Fate voi E poi soprattutto La sequenza di attivazione Degli sticky Vi faccio l'esempio Ora ve lo faccio vedere qui Perché ci vorrebbe Veramente molto più il tavolo Rettifico ragazzi Quella di qua era la squadra rossa Eh però vabbè Cambia nulla Tanto ve l'ho detto Un gioco sandbox Quindi me lo posso anche inventare Comunque Squadra rossa Mette in campo Che si muoverà per primo Il pala stick Squadra blu Ora deve decidere Quale mostro Mettere in campo Che si muoverà per primo Ah La sequenza rimane Quella da inizio a fine partita Quindi sceglietela una volta sola E quindi potrebbe dire Arrow stick Ritocca la squadra rossa Che per secondo Mette sniper stick Ritocca la squadra blu Che invece Come secondo suo Mette time stick Quindi ricordatevi Sempre 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 Che quando andrete ad attivarli In tutti i turni del gioco La sequenza sarà sempre questa Ed è importante Perché nel caso Uno sticky Si è messo fuori combattimento La sequenza cambia Non è che perderete Un'azione di quelle Che potete fare Ma lo sticky successivo Rispetto a quello Che è stato abbattuto Invece di fare un'azione Ne farà due E ora poi vi faccio vedere Come funziona Comunque Inizialmente decidete Una sequenza Le azioni Che si possono fare Con i vostri personaggi Sono quelle Che sono elencate Sulla carta Nella fattispecie Il pala stick Che è questo qui Ha Quattro azioni Quindi il numero Delle azioni Che potete fare Sono sempre Scritte Sulla carta Quindi non potete sbagliare E il range Range d'attacco Quindi lui Essendo uno sticky Da corpo a corpo Potrà attaccare Esclusivamente Un altro In una casella Al massimo Uno di distanza Già qui ad esempio Non lo potrebbe Attaccare E poi Hanno dei punti ferita Che sono segnati qui Quindi lui ne ha tanti Perché ovviamente È un combattente Magari uno da tiro Potrebbe averne Quattro o cinque Quando li finirà Tutti quanti Lo sticky Andrà a KO Sarà rimosso Dalla partita Però in caso Potrebbe essere curato Da un altro sticky O potrebbe avere anche Una carta equipaggiamento Che potrebbe sfruttare Più ci sono le abilità speciali Cura Quattro cuori A un personaggio Ovviamente Della stessa squadra O a se stesso Non soffre Della limitazione Del cespuglio Quindi quando lui Entra dentro il cespuglio Non soffre Della limitazione E può continuare Ad attaccare Tutti quanti Anche però Se il suo range È soltanto uno Ma il range Della special Come vedete Arriva a due Quindi se lui Entra dentro un cespuglio Non può attaccare Al range uno Come farebbe Chiunque altro Ma potrà attaccare Anche al range due E sotto Vedete invece Lego Sotto qua vedete La barra dell'Ego Lui ha Ego 4 Per ciascun turno Quando inizia il turno Ciascuno dei vostri sticky Guadagna uno di Ego È la super Avete presente La super mossa O la ulti Che potete usare In giochi come I MOBA E cose del genere Per ogni Ogni inizio turno Lui guadagna uno Nel turno dopo Riguadagna uno Quando arriva in fondo Può usare la sua special Sprecando un'azione Almeno che non ci sia scritto Nient'altro Sprecherà una delle sue quattro azioni Userà la special Che c'è qui sotto Usata la special Ovviamente l'Ego Si azzera E si inizierà a ricaricare Round dopo round Le azioni che si possono fare Come ho fatto a vedere Prendendo lui Che ha 4 azioni Mettiamo caso Lui fosse qui E qua giù Invece ci fosse Uno sticky avversario Lui con le sue 4 azioni Potrebbe fare Uno Le azioni si possono fare Più volte Quindi potete Usarle tutte per muovervi Potete usarle tutte Per attaccare L'unica cosa Potete usarne solo una Per la special Perché poi dopo si scarica Quindi mettiamo caso Se lo fosse qui potrebbe Come mosse fare Uno Due E andando qui si nasconderebbe Nel cespuglio E vi ho detto che Chi si nasconde nel cespuglio Può essere bersagliato Solo da chi li sta a uno E può bersagliare Solo chi li sta a uno Oppure potrebbe fare Uno Due Avendo ancora due azioni Potrebbe fare Due attacchi A questo sticky E quindi facendo gli attacchi A questo sticky Gli andrà a fare direttamente Due punti ferita Perché in questo gioco Non si tirano dadi Poi ovviamente La mia considerazione E quello che ne penso Lo dico alla fine Comunque Per ogni azione Che fate in corpo a corpo È una ferita automatica Allo sticky avversario Quindi lo sticky avversario Subirà Tot ferita A seconda di tot azioni di attacco Che l'avete fatto Non c'è possibilità di schivare Almeno che magari Non vi capite Una carta in partenza Se lui fosse qui E lo sticky fosse qua E lui usasse un'azione Per muoversi qui E con la seconda azione Usasse la sua special Che vi ricordo La special a range 2 Oppure Se nel caso suo Ce ne fosse un altro Tanto uno vale l'altro ragazzi Per farvi vedere un po' Come funziona Un tiratore Che lui tira addirittura A range 3 Non potrebbe attaccarlo Perché come vi ho detto prima C'è la roccia Che lo copre Quindi nel caso Questo sticky dovrebbe fare Che ne so Uno Non può ancora tirargli Perché vedete la visuale È bloccata dalla roccia E attacco speciale Attacco speciale Che potete usare Solo quando avete l'ego Quindi stessa cosa Se lui si avvicina Farà o il suo attacco speciale Sprecando l'ego La sua ulti O potrà usare Il resto delle azioni Per attaccarla in corpo a corpo Ricordate che Sticky da corpo a corpo Di solito Ci hanno più punti ferita Sticky maghi Che magari lanciano Incantesimi O curano E sticky da tiro Hanno molti meno punti ferita Ovviamente Sennò sarebbe troppo facile il gioco Poi In campo Ci sono Dei minion I minion stanno fermi Non sono di nessuno Sono sticky che sono lì Vedete Senza lineamenti Senza classe Senza nulla Che aspettano solo Di essere ammazzati Quando vedete Questi sticky in campo Potete attaccarli Quindi nel caso Lui li tira Però nel caso Lui jump stick O un altro Magari da corpo a corpo Li dovrà andare In corpo a corpo Quindi sempre Nella casella decente Seguono le stesse regole Gli sticky Minion Hanno Cuori 4 Quindi Ciascuno di loro Ha 4 punti ferita Ah Punti ferita Ovviamente ragazzi Che quando gli andate A guadagnare No Quando li andate a prendere Li mettete sulla scheda O nel caso Li mettete accanto al mosto Sono questi cuoricini qui Hanno 4 di ferita Un'azione soltanto Uno di range soltanto E Quando vanno KO Vi danno Uno sticky coin Che sono queste monetine Qui Queste qui Che vedete E anche queste Quando le prendete Le dovete mettere Sulla carta del personaggio Che l'ha battuto E poi c'è Quello grosso Che è questo qui Che è lo sticky Minion Super Che invece ha 8 punti ferita Fa due azioni Arrange uno Però una volta sconfitto Invece di darvi uno sticky coin Ve ne darà Due Loro stanno fermi lì Non si muovono Fino a che non sono attaccati Quindi nella fattispecie Se io Con questo personaggio qui Questo sticky da tiro Gli sparassi Gli andrei a fare 8 punti ferita Per Le azioni che ho usato Quindi se sparo 4 volte Li faccio 4 punti ferita All'ammazzo Ma se non l'avessi Ucciso Lui automaticamente Subito dopo che ho fatto L'azione Si muoverà E hanno delle regole speciali Si muovono Per la via più breve Verso lo sticky Che l'ha attaccati Quindi nel caso Se ci sono solo io Questo che ha Un'azione sola Viene avanti Se fosse stato Quello grosso Avrebbe fatto La prima azione Per muoversi E la seconda Per attaccarmi E farmi un punto ferita Però Se io l'avessi attaccato Visto che lui Un range da qua giù E quindi li sono a 1, 2 e 3 E qui Magari ci fosse stato A 2 Uno sticky Avversario Loro si muovono sempre O verso Chi li ha attaccati O se no Verso lo sticky Più vicino Anzi La regola principale Vuole che si muovano Sempre verso lo sticky Più vicino Quindi anche se La squadra rossa L'ha attaccato Lui ha la squadra blu A 2 Quindi si muoverà Verso la squadra blu E cercherà Di attaccare La squadra blu Se la distanza Invece È la stessa Che ne so 1 e 2 C'è questo E poi 1 e 2 Qui ce n'è un altro Sempre della squadra avversaria È normale Che loro si muoveranno Verso la squadra avversaria Perché sono più vicini Rispetto alla squadra rossa In quel caso Sarà il giocatore Che lo ha attaccato A decidere Quale due Dominion Andrà a attaccare Quindi magari potrebbe dire Questo Ci ha meno punti ferita Diamogli il colpo di grazia Se no Vado da quest'altro Una volta sconfitti Quando questo Sarà ucciso Il Lo sticky Che lo avrà ucciso Prenderà la monetina E nel caso Invece fosse il super Ne prenderà due Monetina Che può essere spesa subito Non è un'azione E la potete spendere Per andare a pescare Nel mazzo Delle carte Equipaggiamento Ne potete avere 50 Quindi il vostro sticky Non ha un limite Ne può avere quante ne vuole Però ovviamente Devono essere Le dovete comprare Con le monetine Una monetina Per comprarne una Quindi voi Sprecate la monetina La ributtate Nella vostra pila Degli scarti Girate la carta E la mettete Sulla carta Dello sticky Attuale Che l'ha comprata Non potete darla Che vi pare In questo caso Questo dice Idea Guadagna per questo turno Più un'azione Ah In fondo c'è scritto Scarta questa carta Dopo l'uso Quindi quando lui Nel prossimo turno La vorrà utilizzare Magari invece di fare Le sue tre azioni Potrebbe scartarle E farne quattro Ragazzi Le regole del gioco Sono tutte qui Poi ovviamente ci sono Dei malus Che possono capitare Durante il gioco Che sono Rallentato Che è il token Che vi ho fatto vedere prima Questo qui piccolino Con la lumaca Che sono vari Status negativi Che vi possono capitare Lo sticky riceve Il token rallentato Il prossimo turno Lo sticky a metà Delle azioni Arrotondate per eccesso Quindi se sono tre Ne avrà due Alla fine del turno Lo sticky Scarta il token rallentato Se uno sticky Ha due token rallentato Viene invece estordito E poi appunto Visto che l'abbiamo citato C'è lo stordito Che a volte potrebbe essere La special di qualcuno Che ti fa guadagnare Il token stordito Lo sticky riceve Il token stordito Il prossimo turno Lo sticky non può fare nulla Quindi nel prossimo turno Quando toccherà lui Anche nel turno corrente Insomma la prossima mossa Che farà Ad esempio questo sticky Col token stordito Lo salterà Quindi salterà il turno Ricordatevi Uno e uno Uno e uno Quindi squadra rossa Squadra blu Squadra rossa Squadra blu Se nel turno Dovesse Che ne so Perché può succedere Essere estordito Uno sticky O essere messo Ko Quello sticky Lì ovviamente viene Se è stordito Rimane lì Col token stordito Che è questo qua Se invece Lo sticky In questione Fosse abbattuto Fosse sconfitto Verrà rimossa La carta E rimuovendo La carta Voi vi dovete Ricordare Che lo sticky Successivo Vostro Avrà un'azione In più Perché vanno A sostituire Quello che si è appena Rimosso Se no ragazzi Facciamo conto Che tutte le forze In campo Sono queste E mettiamo conto Che già uno sticky Della squadra blu È stato rimosso Cioè Un vi dico Partita è persa Ma quasi Perché Infatti sta regola Mi garba morto Perché alla fine I rossi ce n'hanno Uno Due E il blu ce n'hanno Uno Quindi i rossi Fanno doppie azioni E il blu Ne fa una soltanto Cioè Ha finito di giocare Sì è anche vero Che non doveva farsi abbattere Uno di questi Ci devi stare accanto Però la partita è bella Finché è combattuta Fino in fondo Quindi mettiamo caso Che nella sequenza Questo della squadra blu È stato rimosso Quindi Il primo a muoversi Sarà sempre Il primo rosso Perché la sequenza È quella lì Quindi Pala stick Muove per il primo Poi dopo Non sta a sniper stick Ma sta a time stick Che prende Il posto di quest'altro Ok Quindi Dopo time stick Tocca a sniper stick Però ancora una volta Dopo Perché il suo vero e proprio posto Era questo qua giù in fondo Ritocca a time stick Quindi Alla fine Sì è stato rimosso Harrow stick Qua giù Dalla sequenza Però anche se l'ha rimosso Pala stick È il primo Non essendoci Harrow stick Tocca a quello che rimane Dei blu Poi Ovviamente Tocca al secondo Dei rossi Poi ritocca un'altra volta Invece a time stick Perché lui È andato a sostituire Quello che mancava Harrow stick Nel buco Però il suo posto È sempre questo Quindi farà due azioni Farà due turni Non due azioni Scusate Farà due azioni Nel primo turno E due azioni Nel secondo turno Praticamente farà Doppio turno Per andare a sostituire Quello che non c'è più Ed è una regola Che a me personalmente Piace molto Perché sì Ci può stare Che capiti Che ti perdi una truppa E quell'altro Giustamente L'altro Tuo avversario Ne deve guadagnare qualcosa Avete abbattuto Perché se io Te ne abbatto Uno o due E te ne muovi due E io ne muovo ancora quattro Perché te la sei giocata male Io devo avere un vantaggio Su di te Però comunque Dammi anche la possibilità Un pochino di vincere Perché se no È un gioco del genere Dove non c'è nemmeno Il tiro di dado La prima volta Che subisci Una perdita Ok Ma la seconda perdita Che subisci La partita è persa Cioè si potrebbe dire Ok fermiamola qui La partita Lasciamo sta Andiamo avanti Se ne fa un'altra Capito E non sarebbe nemmeno bello Aveva ragione Chi me lo disse al tempo I migliori board game Sono quelli che Non fanno alzare Dal tavolo nessuno Perché Prendo l'esempio di Bang La prima versione di Bang Quello di carte Il giocatore che falliva S'alzava dal tavolo Fino a che quell'attimo Avano finita la partita Si rompeva i coglioni Invece nella nuova versione Di Bang Con i dadi Non si alza dal tavolo Nessuno Ed è una cosa che mi piace Come soprattutto In samurai sword Il giocatore non si deve Alza dal tavolo Perché se no Rimane mortificato E poi magari Si rompe le scatole Gli viene sul cavolo Il gioco E non gioca nemmeno più E' quello il fatto Comunque Vi do la considerazione finale Ragazzi Questo è il gioco Proprio ho fatto Un'infarinatura Al massimo livello Ci sono altre regole Addirittura quando Ci sono delle regole Particolari Che se nessuno stick Può muovere C'è la possibilità Che subiate di punti ferita Che tutti quanti Di stick subiscono Di punti ferita Però bene o male Ve l'ho detto Le regole sono queste Che vi ho elencato Devo dire la verità E' un gioco Molto interessante Ed è un gioco sandbox Perché sono Nel manuale stesso I due ragazzi I creatori Gli sviluppatori del gioco Sono i primi a dirvi Ragazzi Se è una cosa Non vi garba Cambiatela Createvi le mappe Che tra l'altro Le mappe Queste sono quelle ufficiali Ma ci sono anche mappe Se andate sul loro sito O sui loro social Che trovate in descrizione Potete scaricare Quelle fatte da altri utenti Che potrebbero essere Magari qualcuno Potrebbe creare Una catena montuosa Una gola Una valle Per fare una specie di arena Poi nel gioco C'è deathmatch Deathmatch a squadre E cattura la bandiera Ma nessuno vi vieta Di fare anche altre modalità Ve le potete anche inventare voi O perché no Magari visto che è un gioco sandbox Il regolamento vi dice Che i minion nemici Possono stare fermi Potete tranquillamente Mettervi al tavolino E magari inventare Che i minion nemici Si muovano Quindi a fine di tutte le azioni Di giocatori E' il turno dei minion Per farvi un esempio E loro si muoveranno di uno Come in zombie side Verso il giocatore più vicino Perché magari Come avete visto Prima ci sono anche i minion zombie Che nel gioco questo Non vengono citati Nel manuale di base Ma nella versione prototipo Potreste mettere questi Minion zombie bellini Che invece si muovono di uno Verso il giocatore più vicino Ed è bellino magari Perché poi a fine fine Magari lo circondano E lo attaccano Potrebbe essere un'alternativa Quindi modalità Oppure una modalità cooperativa Una modalità cooperativa Dove voi siete arroccati E dovete distruggere Li sticking minion avversari Il gioco è molto carino E ora devo dire una cosa Me ne so risulta Anche io magari Facendoci la recensione E parlandone Laddove una cosa Che non mi era garbata Quasi per niente Ovvero che non c'è un tiro di dado Perché se io Ti attacco Spreco 4 azioni per attaccarti Ti faccio 4 punti ferita Quindi se te ci avevi 2, 3, 4 ferite Sei morto Cioè non hai possibilità di salvezza Almeno occhio Ci sono le carte eh Ci sono anche carte Che annullano ferite Dell'avversari O carte che ti curano Quindi non è detto Che morirete Per forza Però a me mi garba La casualità del dado T'ho colpita Non t'ho colpita Però Viene incontro La cosa che vi ho detto prima Della sequenza Quindi la sequenza Anche se io ho una pedina In meno delle tue Per fare il mio turno Una delle mie pedine Quella successiva Farà due azioni Quindi le azioni che faccio io Sono sempre uguali alle tue Poi magari ho meno truppe in campo E sono meno diversificate Rispetto alle tue Però ho il tuo stesso numero di azioni E allora sì Questa cosa qui Da una parte Secondo me è controbilancia Però Vedere magari nella scatola finale Anche un dadettino Nel caso qualcuno volesse Oh visto che è un gioco sandbox Qualcuno potrebbe voler Magari tirare un dado Ecco si divertirebbe di più A vedere anche No t'ho mancato Oppure no t'ho preso Invece qui ogni attacco Va a compimento Allora Ripeto per l'ultima volta Quella che vi ho mostrato oggi È una versione prototipo ragazzi È un prototipo Non è la versione finale Niente di quello che avete visto Sarà magari tutto E nella versione finale Magari niente Perché potrebbe anche venire sviluppato In un'altra maniera Cambiate le scritte Il font Quindi potrebbe cambiare tutto E nel 2020 Ci dovrebbe essere un kickstarter Laddove questa sarà La versione di partenza Con tutti quanti Avete viste le cose che ho io qui Magari anche di più Vari stretch goal E la versione invece Quella deluxe Con le pedine 3D Che vi ho fatto vedere Quindi il voto che do È il voto al prototipo Però quando vedrò La versione finale Darò un voto Alla versione finale Ora come ora Se devo dare un voto A questa versione qui Li do assolutamente Un 8 e mezzo su 10 Per me meritato da paura E vi devo dire la verità È molto 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 divertente Anche questo è il classico gioco Non per tutti Di più Lo potete portare a casa di chiunque Vi divertirete da morire E poi Chissà perché no Mettetevi al tavolino E tiratene fuori un bel moba Perché io la prima cosa che farei Farei che Ognuno di voi C'ha uno o due eroi Al massimo tre E poi ci sono i minion Che vanno verso La base avversaria Per distruggere Magari un obiettivo Quindi sbizzarritevi A creare avventure In sticky world E modalità di gioco Ed è veramente Molto divertente Veloce e immediato E le regole Soprattutto sono una cavolata Una partita Ragazzi tira l'altra Ed è fatto veramente bene Tra l'altro Tutti quanti gli sticky Sono molto diversificati L'uno dall'altro Quindi anche Scegliere quello giusto Magari ti fa Fare la squadra perfetta Io ragazzi Ringrazio veramente Marco Arbau E Alessio Barilotti Per avermi offerto Questa copia Ovviamente Tambù l'editore Grazie veramente di cuore Per avermi offerto Questa copia Per la recensione Ragazzi in descrizione Trovate il link Per l'editore Di Tambù Andate a vedere insomma Quindi andate a vedere Anche direttamente Il sito dell'editore Molto interessante Fatto veramente bene E poi sotto Ci sono tutti quanti Social di sticky world Quindi social Sito E quant'altro Stanno iniziando a creare Una bella community Appunto di gente Che gioca O comunque ve l'ho detto Creano mappe E cose del genere Io ragazzi Spero che il video Vi sia piaciuto Fatemelo sapere Con un commento Cosa ne pensate E vi assicuro È veramente un gioco Molto interessante Tenetelo d'occhio Perché quando uscirà Il kickstarter Secondo me Sarà veramente Gettonatissimo Ciao ragazzi Ciao ragazzi Alla prossima Ciao ragazzi